Buonasera per Notizie d'Abruzzo, siamo a Pescara, in via Carducci 22, dove è stata inaugurata questa sera la nuova sede dell'ADC-UDC per le prossime elezioni regionali del 10 febbraio. Siamo in compagnia con Angelica Bianco, segretaria regionale della democrazia cristiana. Allora, iniziamo da tutte le novità che ci sono, partendo per l'inaugurazione della nuova sede di via Carducci. Innanzitutto grazie per essere nuovamente qui, per essere venuti questa serata. Sono molto molto contenta di questa inaugurazione qui in un locale centralissimo in Pescara. Sicuramente questa serata avrà tante novità. La novità è appunto una saletta destinata alle interviste che noi abbiamo allestito in maniera apposita per i passanti che chiaramente vorranno dar voce ai loro sfoghi e ai loro problemi. Perché chiaramente la democrazia cristiana è stata da sempre, e dico da sempre, nel cuore degli abruzzesi, in quanto ha sempre dato risposte al territorio per il bisogno del territorio. Bene, le giovani imprenditrici, tra le iniziative della democrazia cristiana ci sono anche punti programmatici rivolti ai giovani e alle imprese. Ce ne può parlare? E anche alle donne? Sì, assolutamente. Noi pensiamo in maniera primordiale, chiaramente con una grandissima importanza, appunto a quelle che sono i bisogni legati all'imprenditoria femminile, giovanile, tutta l'imprenditoria in generale. Perché chiaramente in questo momento di grande crisi nazionale, che cosa in realtà c'è bisogno? C'è bisogno di ridare corpo e chiaramente anche fiducia a queste imprese che giornalmente chiudono le saracinesche. Siamo davvero molto preoccupati. In questi anni in realtà il lavoro è stato svolto, forse è stato svolto male. Non hanno dato ascolto a quello che è la vera problematica della gente. Di conseguenza bisogna ascoltarla, bisogna dare un aspetto, diciamo, bisogna seguirli in tutto. Bisogna coadiuvare, bisogna aiutare in tutti i sensi perché chiaramente l'effetto finale deve essere quello di creare un Abruzzo nuovamente ricco e un territorio vivibile. Lei è imprenditrice del settore dell'agricoltura. Tra i punti programmatici c'è anche l'agricoltura naturalmente, con quale innovazioni? Sì, assolutamente. L'agricoltura è uno dei punti importanti anche per la crescita del PIL, quindi del prodotto interno lordo della nostra regione. Puntiamo moltissimo sull'agricoltura, sul turismo e chiaramente su tutta l'industrializzazione. Bene, un'ultima osservazione. Lei di Chieti e anche Chieti, la democrazia cristiana, ha intrapreso diverse iniziative. Ce ne può parlare? La democrazia cristiana vorrei sottolineare che è davvero sentita in tutto Abruzzo. L'Abruzzo è democrazia cristiana. Chiunque incontro in giro per la strada mi dice io sono democristiano. E questa cosa davvero mi riempie il cuore. Sinceramente essere rinati in questa fase mi riempie di gioia e credo che durante le elezioni regionali tanta gente ci seguirà appunto per questo. Per il senso che ha sempre avuto e che noi al momento stiamo anche riproponendo. Infine sulla composizione delle liste ci saranno esponenti dell'Udc, militanti, semplici cittadini e dell'ADC. Come procede la formazione delle liste? Molto bene. Io finora ho mantenuto segreto il nostro schieramento perché chiaramente aspettavamo il nome del candidato presidente della regione Abruzzo che molto probabilmente sarà appunto il senatore Marsilio. O forse no. Vedremo nei prossimi giorni quello che accadrà. Io ritengo comunque di dirvi questo in preview che ci sono e ci saranno volti nuovi donne, uomini e tanta esperienza politica ma comunque anche tanta novità. perché il territorio ad oggi è stanco chiaramente di risentire sempre le solite promesse e vuole chiaramente delle novità. E noi siamo in grado di dargliele in questo momento. Molte punte di diamante, tante chiaramente saranno le quote rosa che noi esprimeremo perché molte candidate saranno appunto donne, dotate di curriculum veramente eccezionali e di etica e di valori soprattutto cristiani in cui noi crediamo moltissimo da portare avanti per un futuro migliore. Bene, ringraziamo Angelica Bianco, segretaria regionale della Nuova Democrazia Cristiana che ha un patto elettorale di C.U.D.C. per le prossime elezioni regionali del 10 febbraio. Grazie a lei e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie.